Buonasera, ultima edizione del nostro telegiornale. Sono quasi 10 milioni le dosi di vaccino che sono state somministrate finora nel nostro paese e poco più di 3 milioni le persone che hanno ricevuto anche il richiamo. E mentre si attende l'arrivo di nuove dosi, il generale Figliuolo punta a far partire per la terza settimana di aprile quella procedura che prevede le 500 mila inoculazioni al giorno. Così, ha detto oggi, si può arrivare per settembre ad ottenere l'immunità di Greggia. E a proposito di vaccini, oggi Mario Draghi e sua moglie hanno ricevuto il vaccino nell'Abb allestito alla stazione Termini di Roma. Una leggera flessione in un quadro che resta drammatico. Sono 529 i morti di oggi, un numero ancora troppo alto e che rischia di dover essere rivisto al rialzo nel bollettino quotidiano sulla pandemia. Mancano infatti tutti i numeri della Sicilia travolta oggi dallo scandalo. Nonostante questo, nel confronto con lo scorso martedì l'unico possibile dopo il calo ormai usuale del weekend, la curva dei positivi rivela una leggera flessione, anche aggiungendo i casi della settimana passata comunicati da Palermo. I contagi sono poco più di 16.000, con l'indice di positività che scende al 5.3%. Il dato da accogliere con un cauto ottimismo riguarda la situazione negli ospedali, dove aumenta il numero dei ricoveri nei reparti Covid, ma per la prima volta dal 17 febbraio nelle terapie intensive ci sono meno persone ricoverate rispetto al giorno precedente. In totale i pazienti più gravi sono ora 3.716, meno 5 nelle ultime 24 ore. Dall'Istituto Superiore di Sanità intanto arriva la conferma che 9 casi su 10 di nuove positività sono da attribuire alle varianti più contagiose del virus inglese, soprattutto, ma anche brasiliana. Per fronteggiarle servono le restrizioni e soprattutto serve vaccinarsi. Hanno ripetuto oggi Fabrizio Curcio, capodipartimento della Protezione Civile, Paolo Figliuolo, commissario all'emergenza Covid in Italia. E' entrambi sentiti dalle commissioni affari sociali di Camera e Senato. L'obiettivo è arrivare al 30 settembre con l'80% di italiani vaccinati, ha detto Figliuolo. Con Curcio che è intervenuto anche sul tema delle dosi rimanenti a fine giornata. Non vanno sprecate ma occorre creare meccanismi uguali per tutte le regioni. Intanto oggi all'Hub della stazione Termini a Roma si è vaccinato il premier Draghi insieme alla moglie. Ruggero Razza si è dimesso a lasciato l'incarico all'assessorato alla sanità della regione Sicilia. È indagato dalla procura di Trapani in un'inchiesta che ha portato a tre arresti con l'accusa di aver comunicato all'Istituto Superiore di Sanità dati falsi sull'andamento della pandemia in Sicilia. Secondo i magistrati che parlano di un disegno politico scelerato, gli indagati avrebbero aumentato i dati sui tamponi fatti abbassando i numeri dei positivi e dei decessi, spalmandoli così su più giorni. L'obiettivo sarebbe stato quello di evitare il passaggio della Sicilia in zona rossa. I dati, lo sappiamo, sono fondamentali per le decisioni che poi vengono prese a livello governativo per quello che riguarda aperture e chiusure. Se ne parlerà appunto di aperture e chiusure domani in Consiglio dei Ministri dove dovrebbe arrivare appunto un decreto legge che potrebbe consentire una riapertura prima della fine di aprile come al momento è stato stabilito. Sempre appunto che l'andamento dei contagi lo renda possibile in questo Consiglio dei Ministri si dovrebbe parlare anche dell'obbligo di vaccinazione per il personale sanitario. Le pressioni delle regioni di una parte della maggioranza e di categorie di imprenditori potrebbero trovare una prima risposta nella riunione del Consiglio dei Ministri che si terrà domani. Infatti potrebbe arrivare un decreto legge che disciplini le riaperture prima della fine del mese di aprile se i dati sull'andamento della pandemia nel nostro paese dovessero far segnare un miglioramento. Resta la linea della prudenza più volte ribadita dal Presidente del Consiglio nei giorni scorsi sia in conferenza stampa sia nel corso del confronto con le regioni. Una cautela ancora necessaria perché le cifre del contagio restano alte. Comunque la decisione di far intravedere una prospettiva di allentamento delle misure è accolta positivamente. E il commento di Matteo Salvini è improntato al realismo. Infatti il leader del Carroccio dice se i dati dovessero migliorare è inutile aspettare maggio e poi aggiunge Meglio Draghi di Speranza distinguendo il rigorismo del Ministro della Salute dal pragmatismo del Premier che continua ad adottare i dati del Comitato Tecnico Scientifico come bussola per ogni decisione anche nel settore della scuola. Inoltre nel decreto che arriverà domani ci saranno anche le nuove norme che regoleranno il piano di vaccinazione per gli operatori sanitari. L'obbligo di immunizzazione potrebbe essere steso a tutto il personale che lavora in strutture sanitarie. Saranno previste anche sanzioni perché rifiuterà il vaccino. L'ipotesi è quella della sospensione dello stipendio per un tempo congruo rispetto all'andamento della pandemia. Il vaccino anglo-svedese prodotto dalla società AstraZeneca da oggi ha un nome che si chiama Baxevria. Un nome che però in Germania non ha cambiato la percezione di questo farmaco. Restano tanti dubbi su quei 31 casi di trombosi cerebrale che si sono verificati in persone che hanno ricevuto questo tipo di vaccinazione. Per questo la Germania ha deciso di sospendere la somministrazione di questo nuovo vaccino alle persone che hanno meno di 60 anni. Si tratta di una questione di trasparenza ha detto Angela Merkel anche se restiamo fiduciosi in questi farmaci che ci salveranno la vita. Io stessa quando sarà il mio turno prenderò il vaccino Baxevria che poi sarebbe l'AstraZeneca. Nuovo nome, vecchi problemi, si chiamerà da oggi Baxevria. Il vaccino dell'azienda AstraZeneca nel vortice delle polemiche da settimane ormai è alle prese ora con un nuovo stop arrivato dalla Germania. La commissione permanente per il vaccino tedesca ha infatti raccomandato la somministrazione solo agli uomini e alle donne oltre i 60 anni. Tuttavia per le persone inferiori ai 60 le vaccinazioni possono continuare per i principali gruppi prioritari cioè ad alto rischio e solo dopo un'attenta valutazione medica da parte dei medici di base. Lo stop è motivato ancora una volta come quello che aveva coinvolto quasi tutta l'Unione Europea all'inizio del mese dai casi di trombosi cerebrale verificatisi dopo l'immunizzazione. 31 su 2 milioni e 700 mila tutte riguardanti donne sotto i 55 anni. Prima Berlino poi il Brandeburgo e infine le città di Monaco, Colonia e il Nord Reno, Westfalia avevano già firmato nel pomeriggio in via precauzionale il blocco alle somministrazioni del vaccino senza neanche aspettare il risultato del confronto tra la cancelliera Merkel e il ministro della sanità Spahn da una parte e i governatori dei singoli lender. Incontro che in serata ha poi confermato il blocco a livello nazionale. Incontro che in serata ha poi confermato il blocco a livello nazionale. So che tutto questo crea insicurezza ma è soprattutto la trasparenza a rappresentare la migliore opportunità per gestire la situazione ha detto Angela Merkel al termine della riunione e ha assicurato. Può essere che tra poco toccherà anche a me e nel caso mi faccio vaccinare anche con il siero AstraZeneca. E adesso parliamo di Alex Spazzer, il marciatore azzurro squalificato per doping la cui è scagionato poi recentemente dal Tribunale di Bolzano. L'Agenzia Mondiale Anti-Doping stasera ha replicato alla decisione della Commissione Istruzione Cultura e Sport della Camera dei Deputati che è scesa in campo per consentire all'atleta italiano di partecipare alle Olimpiadi di Tokyo. L'Avada ha fatto sapere di prendere atto della decisione ribadendo però di aver agito in buona fede nel pieno rispetto delle procedure sostenendo che le evidenze sono state scientificamente provate. L'Avada aggiunge di rimanere a disposizione delle autorità italiane. Era l'ultima notizia di questa edizione, ci fermiamo qui come sempre domattina. Torno all'informazione, arrivederci e buonanotte. Torno all'informazione, arrivederci e buonanotte. Torno all'informazione, arrivederci e buonanotte.